L'espansione è strana, se volete la mia sincera opinione, nel senso che c'è roba interessante, ma esce poco, e tutto ha comunque un valore abbastanza alto, per dire, le Lara stanno a 25 euro da... Oh! Pacchetto orizzontale! Mai mi era successo! Aprire subito pacchetto che stava orizzontalmente dentro al box, che sia un codice, un... Demon Falcas! Saitsemas... Guard Dog! No, era lì semplicemente perché era in orizzontale. Comunque stavo dicendo, c'è roba che sta tantino, altra roba che sta a meno tantino, altra roba che sta più tantino, però ci sono carte come Phantom, Mirror Magic Master, Lara, che stanno tutte a qualcosina. Più di qualcosina in realtà, perché appunto 25 euro per una secret di un'espansione come questa è tanto. Quindi, boh, in realtà l'unica carta che cerchiamo è Phantom of Hubbell, il resto... il resto è noia, come dicono. Anche se qualche ultra carina si può anche trovare. Oh! Subito il Mirror Mage Master! Una delle... di quelle che vi stavo dicendo, che costano un po' di più. Buono. Lo sta sui 10, mi pare, adesso. Lui, Lara e Phantom. Vediamo quanti Phantom riusciamo a trovare. Questi sono tre box. Me ne devono arrivare altri quattro. Oh! Non è possibile! Mirror Mage! Lara! Adesso Phantom! Le sto chiamando tutte! Wonky Quartet! No, questa ha caccata. Ingiocabile. Mi ricordo che quello lì, quando era uscito, la gente provava a giocarlo in Dragon Link, perché chiede un tuner, oscurità, e quindi giocavano Tracer, chiaramente, in Dragon Link. Bello, questa non l'avevo ancora trovata. Si giocava a Tracer, e quindi Tracer diventa il tuner Dark che richiede lui, no? Certo. Fortissimo. Exa. TIE AT e Proxy F Magician. Ragazzi, io posso chiedervi per cosa sta la F? Life Hack. Piedi. Undyne. Ambush. E Void Vanishment. Questa carta è bellissima, Secret. Tra l'altro, con queste espansioni si fa presto ad aprire i box, perché sono cinque carte per pacchetto. Praticamente quella più interessante è la Secret. Caccia una Diviner. Quindi si fa abbastanza in fretta, ripeto. Gli starebbe a trovare una bella quarter. Di solito si trova una quarter ogni tre box, come pool. Gli di di. Lubellion. Dura Dark che ci tiene a fare un saluto. Poi Tank e The End of Anubis. Anche questo non l'avevo ancora visto. Tra l'altro potrei fare anche un trucco, ovvero accendere pure sta luce. E abbassarla al minimo. Per dare una brillantezza migliore alle carte. Scrap Gobline. Onuncu. Resonance. E Ace. Spades. Speculazione. Sta carta, quando è stata annunciata, la gente si strappava i capelli. Un nuovo target dei Super Poli. Leggi i target. Leggi i target, per favore. Toy Soldier. Sprite Jet. Sprite Pike Size. Winda. E Arm a Dick. Il braccio cazzo. Arm a Dick. Per ora comunque abbiamo trovato una Lara da sto box. Manco male. Sprite Blue. Non ne avevo trovato nemmeno uno nei due box che ho trovato, che ho aperto già. Oh, nemmeno questo l'avevo trovato. Knock you Drago. Bello. Tra l'altro più tardi sul canale esce un unboxing per oggi. Gamma Burst. Gator Light. Sang Engine. Per fortuna che c'è. Electro Blaster. E Blades. Blades in preordine era uno di quelli che costava di più. Se non dico una cazzata. Lifehack. Arbitration. Mira Match. Resonance. E Snatch Steel. Nemmeno questo l'avevo trovato. È il box di carte che non avevo già trovato. Però fammi trovare una bella quarter. Dai. Tira fuori il Phantom. Dai. Qua fai direttamente così. Pam. Wink Rebo. Level 6. Ah, e tra l'altro c'è anche la possibilità di trovare lui. Il Master of Dragon Magia. Che è solamente quarter. Undyne. Medallion Alternative. E Evil. Pure lui non l'avevo trovato nei miei box. Un botto di roba. Buono comunque Evil. Turing. Spirit Converter. Riff. Wayne. E Brandon Fijon. Sì, faccio un mega pacco. Hai ragione. Mi piace. Mi piace l'idea. Mi piace l'idea. Magari quella è una... È una quarter già. La mischiate. Non davano mischiate. Ne va a ferma. Ragazzi. Su denuncio. Patroullea Reignition Red Axel Birdman Toybox Voidbreach Cartesia E abbiamo finalmente Ace Spades Speculation La F Il cazzo braccio E Gigantic Sprite Un Phantom Qua ci starebbe Per chiudere sto box Che non è stato Bruttino Oh Secondo Mirror Rage Mono Per meglio la seconda Lara Sotto alcuni punti di vista Però Vediamo se Voglio fare un gioco Oddio è una fusione O è un Link Era un mostro normale Sembrava una fusione Però Voglio rifarlo Fire in Primo box Si porta a casa Una Lara Che è short printed Come la merda Due Mirror Mage Io Sono Satisfacted Uh Gaia Pelio Questo Non l'avevo Trovato Tra l'altro Non so se lo sapete Ma è la mia Prima volta In Sardegna Quanti box sono? X No so tre box Snatch still Casereccio Si Sardegna Ragazzuoli E Bonsan Sole Nero Si Durango Metti un bel counter Di Phantom Guarda Mi sa che Se non lo metto È uguale X C'è solo giganti Chi è in sto box Mi sa Uh Playset Playset di sto bastardo Vediamo se Troviamo qualcosa Di buono Ib La prima Credo Oddio No è con la È con la Veramente Veramente Molto male Eh Nulla È È impossibile Trovarlo Un Phantom Branded Fusion Aspetta che faccio Una cosa Onunku Sacrifice Level Up Undyne Cassion Blades Ma ragazzi Ci sono più carte In sto box Cosa Guarda Gianmarco Che è arrivato Cinque minuti fa È buono È buono Però non è possibile Trovare fusione Ed è solo lui O quell'altro Aspetta un attimo Generale Wayne Arbitrazione del bianco No ragazzi Oddio c'è Decathlon Ma c'è un'altra Carta Cosa Questo è il primo Che trovo È la prima volta Che trovo Una shiny star dragon In Sardegna Bene Trovi fusione Non è mai lui Boh Niente quarter Oh un flood Oh un flood Dai Chiedo un phantom Così che mi faccio Il playset Mercurier Ancora non l'avevo trovato Oh è il primo oil È il primo oil Oil In america lo stavano Lo stavano anche Mezzo by outtando La stanno Stanno tutti Olio Anche starter È il primo Giuro è una roba Impressionante Non trovarne nemmeno uno Ma la tasto punto Mi va Vedi Fusione Secret Mia madre Mi va bene anche una quarter A caso Una quarter brutta È Impernoide Cazzo braccio È il primo Di ancient gear dragon In 5 box Giorgion Oh mi manca l'ansia Non l'ho ancora trovato È l'unica carta Di ice barrier Che manca Oh Curior Prima kurikara Oh Almeno Un altro E ho finito la base Era il primo Anche questo Era il primo Anche questo Attenzione Anche questo Il primo Ci sono carte Che non ho Alesemente Mai visto Comunque Però gigantic C'è sempre Ultimi 4 pacchetti Una quarter Dai Una Una No Ne ho 6 Ne ho 6 Di questo Però Lara 1 Oh Oh no L'ho aperto Al contrario Non è che Al contrario Non è che è stato bello